Amici ben ritrovati qui su Milanello, il nostro canale YouTube che parla solo ed esclusivamente di Milan e del calciomercato in questo momento che riguarda il Milan in attesa di tornare in campo a gioire anche nel prossimo anno, nel 2021. Ricordiamo il 3 gennaio Benevento, il 6 Juventus, quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Vi ricordo come sempre di iscrivervi qui sulla banderina rosso-nera, attivate anche la campanella, lo dico anche a quelli che sono iscritti ma che non hanno attivato la campanella, magari non lo sanno nemmeno e lasciate il like qui sotto se sperate. Anche voi un 2021 straordinario, ancora più di questo 2020, con un bel successo. Superiamo i 4.000 like in questo video, forza 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 per il Milan. Allora ci avviciniamo al mercato, il mercato ufficialmente il 4 gennaio apre i battenti ma le trattative sono già calde, caldissime, bollenti e il Milan ovviamente vuole rinforzare la squadra, la rosa, andando a inserire giocatori laddove necessario. Inserimenti mirati, andando a conoscere anche il professionista, l'uomo, la famiglia, cercando di non rovinare questa bella macchina che funziona e che sta andando davvero forte, forte, forte. Sicuramente il Milan in difesa vuole fare un'operazione, ha provato a farla anche nei primi giorni di ottobre, cioè gli ultimi giorni dello scorso calciomercato, in vano. E adesso andiamo ad approfondire il discorso difensore e soprattutto un giocatore. Vi ricordo, e questo è un po' il manifesto programmatico della società, le parole di Maldini di un mesetto fa. Giusto un mese fa. Quando Maldini dice, un difensore per me è abbastanza facile da leggere. Ma prima veniva richiesto un giocatore che stava bene in un reparto. Adesso andrei a prendere un giocatore che è forte nell'uno contro uno, poi gli insegna stare bene nel reparto. Ricordatevi, forte nell'uno contro uno. La cosa difficile da insegnare è la forza nell'uno contro uno. La concentrazione è una cosa che manca. In questo momento, soprattutto per la nostra maniera di giocare, ma anche la situazione del calcio in generale, andrei a prendere un difensore forte nell'uno contro uno, ribadisce, al quale poi l'allenatore possa insegnargli di stare all'interno di un reparto. Lo dice due volte, uno contro uno. E il Milan ha individuato alcuni profili, alcuni nomi sono usciti, come quello di Rudiger, che piace molto a Massara, quello di Kabak, che il Milan ha provato a prendere appunto a ottobre, ma anche quello di Mohamed Simakhan, che il Milan ha provato a prendere, come sappiamo, in vano a ottobre. Lui è il prescelto di Paolo Maldini. Maldini porta avanti questa candidatura. È un giocatore di 20 anni appena. Nazionale francese nato a Marsiglia. Ne farà 21 il 3 maggio. Alto 1,87. Dello Strasburgo. Scadenza di contratto 2023. Quindi non immediata. In questa stagione in Ligan lui ha fatto 17 presenze. Ha fatto anche un gol e un assist. Adesso vi svelo le sue caratteristiche. Visto che in tanti me l'avete chiesto. Due gialli, zero rossi. Questo dunque ha il suo curriculum stagionale. Ha fatto soltanto appunto la Ligan. No altre coppe. E andando a vedere un po' nel curriculum, nella carriera. Lo Strasburgo lo lancia nella squadra B. Vuole puntarci. Prima lui cresce nel settore giovanile, nella cantera del Marsiglia. Nel 2017 lo compra lo Strasburgo. E gioca un paio d'anni nello Strasburgo B. Dove totalizza 24 presenze. Poi sale di squadra. Va nello Strasburgo A. Dove in due anni totalizza a oggi 25 presenze in Ligan. L'anno scorso il campionato in Ligan è finito prima. Altrimenti sarebbero state molte di più. Ha giocato anche in Coppa di Francia. Comunque nello Strasburgo ha l'attivo 19 presenze. Quindi è un talento emergente. Che sicuramente si sta mettendo in mostra nel campionato francese. Ha queste caratteristiche che vi vado ad elencare. Intanto lui può giocare al centro. Lui è un difensore centrale puro. Ma può giocare anche a destra. Perché a gamba, a spinta. Ripeto, per questo può fare anche il terzino destro. Non ai livelli di Teo Hernandez. Cioè uno che va, sfonda ed è dominante. Però lui ha delle buone qualità. Vi dicevo. A livello atletico. A livello fisico. Ha grande fisicità. La fisicità è una delle sue caratteristiche migliori. È un giocatore esplosivo. Per chi lo conosce bene da vicino. E lo segue ogni domenica. La descrizione che mi è stata data è questa. È un giocatore esplosivo. Nel vero senso della parola. Ora è difficile abbinarlo magari ad altri giocatori. Lui ha sicuramente il fisico. Può andare nella progressione. Attacca bene anche quando va. Spesso lo si vede magari prendere palla. E fare delle scorribande in avanti. Un po' come ha fatto Calulu in un paio di circostanze anche con il Milan. Perché qualcuno di voi lo paragona a Calulu. Può giocare anche nella difesa 3. Vi dicevo. È un giocatore che ha avuto anche un infortunio serio. Ma l'ha superato. E adesso vive il suo momento di splendore e di crescita. Grande velocità. Bravo nell'uno contro uno soprattutto. La sua qualità è questa. L'uno contro uno per lui è il valore aggiunto. E qui torniamo a quello che diceva Maldini prima. Non ci serve se giochi di riparto. Altre caratteristiche. Ma deve essere bravo nell'uno contro uno. Per quanto mi riguarda. E per me. Sto citando Maldini. È facile leggere i difensori. Viste che lo ha sempre fatto. Questo è il suo prescelto. Bravo anche nel gioco aereo. Anche se non fa gol. Ma poi chissà può anche esplodere. Magari sottoporta nei calci piazzati. Dietro è bravo. Ripeto. Uno contro uno si fa fatica a superarlo. Sfrutta la sua fisicità. E la sua determinazione. La sua concentrazione. Che è importante. Ogni tanto. Magari anche sulle palle alte. E in altre situazioni. Legge male. E sbaglia la posizione. Però su questo. Evidentemente ci si può lavorare. E si può crescere. Ripetiamo. Farà 21 anni. A maggio. Ha fatto anche il terzino. Vi dicevo. Quindi può. Si può prendere un centrale. Che all'occorrenza può fare anche il terzino destro. Magari nell'ottica di un mancato riscatto. Di Dallò. La partenza. Che è più probabile. Di Conti. A gennaio. Piuttosto che a giugno. Quindi qui si prenderebbe la duttilità. E c'è un particolare. Che vi dicevo. Intanto nel 2018. A luglio. Lui si è fatto i legamenti. Però l'ha superati brillantemente. E oggi. Sta benissimo. Vi dicevo che. Però c'è un particolare. Che a me. Un po' frenava. E poi vi spiego. Se ho cambiato idea. Oppure no. Nel senso che lui. Non ha convocazioni. Né. Nelle under. Francesi. Nella nazionale maggiore francese. E voi mi direte. Neanche Teo Hernandez. Però Teo. Un po' di trafila. Tra le giovanili. Nelle varie under. L'ha fatta. È vero che. Nella nazionale maggiore. Non viene preso in considerazione. Per errore questo. Di Dechamp. Fa il suo esordio. Lui. Nel. Intrato in Europa League. Contro il Maccabi. Ha. E. Ha. Fatto un po'. Il suo percorso di crescita. È uno dei talenti. Che. La Ligan. È pronta. Ad esportare. Piace anche ad altri club. Anche in Premier League. In questo caso. La valutazione però. È tutto sommato. Abbordabile. Perché parliamo. Di. 20 milioni di euro. Per lo Strasburgo. Che però. Sono destinati a scendere. Il Milan. Già aveva presentato un'offerta. I primi giorni di ottobre. Ma alla fine. Non se n'è fatto nulla. Anzi. L'ultimo giorno di mercato. Poi si prova con Simacan. Ma non se n'è fatto nulla. Qui su Milan. Nero ne abbiamo parlato anche. Credo. Un annetto fa. Sì. Più o meno un annetto fa. E ne avevamo già parlato appunto. In questo caso. Il Milan vorrebbe arrivare. Magari a 15 milioni. Comprensivi di bonus. Diciamo che la distanza. Non è altissima. Bisogna capire. Se prevale poi. La linea Maldini. La linea Massara. Che però sicuramente ha meno voce in capitolo. O la linea Moncada. O Moncada. Che sicuramente ha delle sue conoscenze. Ed è un profilo che lui conosce bene. Promosso dallo scouting. Tra l'altro. Moncada ha un canale preferenziale con la Ligan. Qualcuno di voi dice. Però abbiamo scoperto Kalulu. Perché investire su Simacan. Kalulu però è un terzino destro. Che gioca al centro. Simacan è un centrale. Centrale. Che fa quello di ruolo. Di mestiere. Che può giocare anche a destra. Diciamo che nell'ottica dell'uscita di Musacchio. Quasi sicuramente a gennaio. E di Duarte. Gennaio oppure la prossima estate. Si va a prendere un giocatore interessante. Classe 2000. Con un ingaggio basso. Una valutazione che dicevamo. Tutto sommato abbordabile. E su questo vi dicevo. Io un po' ho cambiato idea. Perché ho visto i filmati. Mi piace. Davvero lui è esplosivo. È uno che va. È uno che non si fa superare. È una roccia. Non riesco a trovare paragoni. Non riesco a fare dei paragoni. Non voglio magari fare anche paragoni esagerati. Prima ancora che arrivi. Però vedendolo. Informandomi. Con persone che lo conoscono bene. Che mi hanno detto. Un giocatore interessante. Esplosivo. Su quale però bisogna lavorare. Devo dire che ho cambiato idea. Ma soprattutto mi fido di Maldini. Maldini di Moncada e di Massara che hanno fatto benissimo sul mercato. Se ritengono Simacan l'uomo giusto per il nostro posto giusto. Dobbiamo fidarci. Oggi lui è in pole position. Non sono scartate le altre ipotesi. Però forse il giocatore è più facile da prendere. E che se prevale la linea Maldini si va a prendere. Mohamed Simacan. Nato a Marsiglia il 3 maggio del 2000. Ricordate. Mi viene sempre da dire Milan. Ricordate questa frase. Bravo. Nell'uno contro uno. E lui è bravissimo. Vi mando un abbraccio. Un saluto. Lasciate il like. Mi raccomando. Bene augurante per il prossimo anno del Milan. Iscrivetevi qui se non l'avete ancora fatto. Scrivetevi che cosa ne pensate. E un abbraccio a tutti. Ciao.